Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Damiano Fedeli. In Fipili ci sono per lavori 3 km di coda fra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze, rallentamenti in direzione opposta. Ancora in Fipili 3 km di coda per incidente fra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione Livorno. Sulla 1 coda di 2 km per lavori fra Firenze Sud e Firenze Impruneta, coda per traffico intenso fra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. In direzione Roma coda per traffico intenso fra Firenze Impruneta e Firenze Sud. Sulla 11 ci sono code a tratti fra Chiesina Uzzanese e il Bivio per la 1 in direzione Firenze. Veniamo al raccordo Siena-Firenze dove da oggi ci sono lavori di manutenzione dei viadotti Docciola e Falciani tra l'allacciamento a 1 di Firenze Impruneta e San Casciano. Ed è tutto, buon viaggio!